Ciao Belli! Fai mezza ora ti spingo! Qua si salta di brutto! Vado io? Non mi sento più le dita e le mani Qua, giocciolo! Buongiorno! 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 No, è su, è su! Vai, vai, vai! Scusa che roba qua! Tutto distrutto! Oh! Scusate! Ho fatto un'entrata un po' voletta! Occhio! Oh! Vado questo One Rider! Il One Rider nuovo! Ciao! Riggi è appena uscito fuori! Impegnativo! Ho preso io la telecamera di Dano! Ste cazzo di curve se non fossero con i sassi in mezzo! Ho preso io la telecamera di Dano! Ho preso io i nostri soldi di Gloria! Ragazzi, io parlo poco perché... Il signor Paoletti qua sta tirando per la gola! Gna 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 gna! Ho preso io la telecamera di Dano! Sì, mi ferma! Sì! 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 Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Ma cosa li facciamo? Andiamo avanti così noi a buffo! Ragazzi, squadra sta... Pumptrack Modena ASD! Un delirio! Un delirio! Sì! Oggi facciamo un casino! Un quartilax! E c'è anche lei! C'è anche lei! Mia moglie! Mia moglie! La prima volta nel video MTP360! Guardate questo video perché in realtà è la fine del video questo! Ma è tanta roba! Sì! No! È la fine! Lo sappiamo già! Gli lo diciamo che stiamo facendo l'intro alla fine! Ok? Sappiamo già che è una figata! Quindi lo dovete guardare perché è fighissimo! Sì! Se non vi ricordate è il video dell'Ostel & Flow che continua! Esatto! Quindi... Quindi... Riccardo Presidente SD! Michele Socio Fondatore! Simone Mezzasega! E... Paolo... Segretario! Paolo Segretario! Gialluca! Io niente! Di larga! È sopravvissuta all'orso! Esatto! Esatto! Siamo tutti vivi! Quindi guardate questo video! Poi Taglia fa qualcosa! Non lo so! Quindi... Ci mettiamo in sella! Andiamo! Ciao! Cominciamo la discesa del magico Willy Wonka! Chiocciola del Willy Wonka! Stetti! E arriviamo! Giù! Balla! Pista da sci! Curva! Curva! Sponda! ho sentito urlare il buon diego si sta alzando il polverone al trasponda e qua c'è questo anticipo di curva da prendere sul wall ride e poi girare occhio che è solo quello di questo fra curva comunque come avete visto tutto qua giocciolona schiaccia che si esce il dottor paoletti mi sta spezzando sentiero abbastanza tranquillo nel bosco il dottor paoletti mi sta facendo spingere più di quanto vorrei spingere if I got time I'm deadly never caught up guard no I'm always ready I got a hand real steady look in the eye and you'll see no hezi about to get real messi I'll put you in a great six feet like candy i ragazzi di pump track modena spingono mtb 360 carica a scramo one right basso per mantenere questa curva ok ok ora togliamo su questo salto non mi piace mai questo c'è un po' di più Diego continua mentre io scendo dalla forestale per evitare la parte regalata ma questa è una scramo la locale pump track modena siete interstellar no è su è su vai ricky appena uscito fuori primo salto è rischiato la morte prendete velocità dopo la piattaforma andate verso il piatto di sinistra se volete vado io arcon zero i pedali oh ok ah da giù la linea giù ah occhio ah si si è solo che mi ha strozzato il rilancio vai diego vai diego ho preso io la telecamera di dano oh no oh eh eh Eeeh, diciamo o no? Si salta troppo ragazzi, si salta troppo Si salta troppo Passo, passo So, passo Vai, vieni, 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 vieni Vai vieni, vieni, vieni Vai vieni, vieni Chiudilo! Oddio! Vai, vai, vai! Wuh! Lungo! Vieni, vieni, vieni secco! Vai, ripi, ripi basta! Passa! Passa! guarda la calda 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 boh boh te ora l'ammazzi bravo molto meglio molto meglio di prima il video è cominciato male no guarda atto da video così abbastanza stupidi non abbiamo mai fatti ma è stata una perché noi ci teniamo a fare video professionali esatto esatto però questa è stata una figata di giornata mi sono divertito siamo stanchi morti abbiamo rischiato la vita la dano di mtb360 e diego di mtb360 è tutto ci vediamo al prossimo video arrivederci a Donomiti Paganella Bike si torneremo stiamo andando a fare una collaborazione siamo qua a disposizione e noi torniamo qua tanto io sono allo stop generale esatto io li aspetto tutti i giorni ciao